Orientamento al lavoro e alle professioni. La Camera di Commercio di Reggio Emilia affianca i giovani con tantissime attività sul territorio. Tra queste c'è impresinazione, sostanzialmente un'esperienza di impresa simulata. È uno strumento per aiutare i nostri giovani ad acquisire lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità, fornendo loro gli strumenti cognitivi di base in ambito sia economico che finanziario. Il futuro delle nostre imprese, infatti, e soprattutto dei nostri territori, passa dai giovani. Il nostro sforzo è cercare di fornire ai nostri ragazzi gli strumenti per fare in modo che crescano come imprenditori motivati, appassionati e preparati. Il progetto J-Italia è stato assolutamente formativo per i ragazzi perché ha dato modo di sviluppare la loro capacità imprenditoriale e la loro creatività. È stato altresì molto utile dal punto di vista sia giuridico che economico perché ha avuto modo di sviluppare direttamente l'atto costitutivo di una società e di mettere in pratica le capacità imprenditoriali dei ragazzi attraverso la pubblicizzazione del prodotto che vendevano. Siamo un'azienda formata da ragazzi che frequentano scuola con indirizzo turistico. Per questo motivo abbiamo deciso di fondare un'azienda indirizzata ai nostri interessi. Vista anche la crescente importanza dell'ecosostenibilità, abbiamo optato per un'azienda a volte a pubblicizzare agenzie di viaggio che sviluppano pacchetti turistici che preservano l'ambiente. La pianificazione è stata colata per poter sfruttare al meglio tempi e competenze di singoli individui. Abbiamo voluto coinvolgere tutti pianificando i ruoli in base alla vita di ciascuno. Abbiamo diviso il progetto in più ruoli, una parte giuridica, una parte commerciale, una parte mirata al merchandising del sito e una parte a volte al rapporto con i clienti. I clienti della nostra azienda sono le agenzie con cui collaboriamo per pubblicizzare viaggi e prodotti turistici ecosostenibili. I social in cui ci potete trovare sono lo specchio delle tipologie di viaggio che pubblicizziamo, che si concentrano su determinate persone che in generale sono interessate all'ecosostenibilità. Il prodotto sviluppato dalla nostra azienda è il servizio di merchandising di altre agenzie turistiche tramite piattaforme social e piattaforme online. Per questo motivo il mercato è molto vario con possibilità di ricavo infinite e nonostante l'inesperienza dovuta alla nostra giovane età riusciremo a farci rilevare positivamente dall'agenzia che pubblicizziamo. Il ruolo del Dream Coach è incentrato su alcune parole chiave come supporto, esperienza e impegno, ma anche obiettività e concretezza. Parole che ci raccontano un lavoro fatto di affiancamento più che di trasmissione di neutre competenze, perché è importante che siano gli studenti i veri protagonisti di imprese nazioni, imparando così ad assuvertire responsabilità, ma anche ad accogliere i successi. Questa esperienza lavorativa con GEA Italia, che si è svolta durante l'anno scolastico, si è rivelata all'inizio un po' complicata, essendo stato per noi un progetto nuovo e in un certo senso inusuale. Tuttavia, grazie all'aiuto del nostro tutor, siamo riusciti a sviluppare la nostra idea. La parte più difficile del nostro lavoro è stata quella di trovare agenzie di viaggio che fossero disposte a darci il permesso di pubblicizzare le loro proposte sul nostro sito. Nonostante tutto, siamo riusciti ad accordarci con alcune di esse e raggiungere il nostro obiettivo. Aspettiamo le fiere regionali e speriamo di vincere il Beast Factory! Grazie a tutti!